Il sindaco di Aquara Antonio Marino e l'amministrazione comunale sono al lavoro per la riqualificazione di tutta l'area di Mainardi. Ieri mattina con diversi mezzi e operai qualificati si è proceduto alla pulizia dell'area picnic dell'ex centro Lontra. Lo scopo dell'amministrazione è quello di fare in modo che quest'area torni a risplendere e ad essere un bene di tutta la comunità. Il sindaco Marino, sempre attento alle politiche giovanili, nei prossimi giorni incontrerà un gruppo di giovani di Mainardi per la costituzione di una cooperativa per la gestione dell'intera area privilegiando in questo modo il turismo nelle aree interne.